Intermediazione in poche parole, questo è lecito ancora avvocato? Anche l'intermediazione? Allora bisogna un attimo fare un po' di precisione perché poi in realtà la CONIT avrebbe dovuto sempre nell'accordo del 14 giugno che è documentato in atti, avrebbe dovuto appunto sottoscrivere entro il 30 luglio con la proprietaria VIS un contratto preliminare appunto di compravendita dell'intero complesso immobiliare dove per intero intendiamo non solo la parte abitativa occupata ma anche le unità libere, più negozi, magazzini, uffici e le parti comuni, quindi l'intero complesso appunto al prezzo di 92 milioni di euro e successivamente tramite la stessa CONIT o una controllata della CONIT avrebbe dovuto inviare a tutti gli inquilini delle lettere per esercitare il cosiddetto... La controllata sarebbe stata intoretta? Sì, ancora per il momento della CONIT avrebbe dovuto inviare chiaramente le lettere per esercitare il diritto di opzione che veniva riconosciuto a tutti gli inquilini perché sappiamo che l'opzione non esiste per legge, queste dismissioni private salvo il riconoscimento che può essere dato appunto attraverso il contratto. Chiaramente previa prima però definizione di un piano di frazionamento di quei 92 milioni, cioè frazionare i 92 milioni per i singoli appartamenti e quindi inviare una lettera che appunto conteneva questo esercizio del diritto di opzione per acquistare l'appartamento al singolo prezzo. Cerchiamo di capire un attimo, ma perché le organizzazioni sindacali avrebbero in qualche modo frapposto, interposto diciamo tra voi, la Viz e Sarelle e un'altra società? C'è una ragione perché la Viz voleva vendere in blocco, quindi ci doveva essere per forza un soggetto che poteva essere una cooperativa. Perché non vi siete... La cooperativa è stata tutto sommato osteggiata forse anche da noi inquirini, da parte di inquirini perché c'erano dei problemi, c'erano come si chiama, molte riserve mentali riguardo le cooperative, il compagno è bella e si è avuto più fiducia che tutto ciò avvenisse tramite le organizzazioni sindacali e una società scelta da loro. Allora, prima di andare a dire la linea al giare, però vorrei puntualizzare tanto una cosa. Voi a quel punto, lei più che altro ha fatto questi calcoli e gli inquirini hanno detto forse, oddio, ma qui forse c'è qualcosa in un quadro, giustamente, no? E sono bloccati insomma di fronte a questa cosa? No, c'è stata un'assemblea. 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 Fu indetta un'assemblea di tutti quanti gli inquirini. Hanno partecipato anche da un'associazione sindacale, chiaramente, perfetto. Ma come hanno reggito da un'associazione sindacale di fronte a questi calcoli? Sono rimasti di stucco. Nell'assemblea fu bocciata completamente la proposta, l'ipotesi di acquisto a 92 milioni. Perfetto. Per cui i sindacali hanno detto, beh, ormai noi che possiamo fare più? Ormai noi abbiamo proposto. Avevamo detto che 92 milioni, voi non vi sta bene e adesso ci siamo. Però posso dire precisare una cosa. Però è emerso nell'assemblea di tutti quanti gli inquirini. Le organizzazioni sindacali, un'assemblea che fu di fuoco, che durò parecchie ore, fino all'ultimo momento, cercarono in tutte le maniere di far passare questa ipotesi. Sia di acquisto di 92 milioni che la vendita come sarebbe stata fatta dalla Conit, comunque. Quindi la spalmatura di 92 milioni. La spalmatura... In questo caso, alla vista, sarebbe andato in ogni caso di 92 milioni e il resto avrebbe preso la Conit, praticamente. A che titolo, però, giuridicamente, avvocato? La Conit avrebbe potuto acquisire gli appartamenti che eventualmente non fossero stati acquistati dai singoli inquirini. A un prezzo più basso. Avrebbe potuto, non è che era obbligata. Volendo poteva acquisirli. E' chiaro che i sindacati... Dice, contro io, però, poteva anche... Addirittura poteva anche non vendere più gli inquirini. I sindacati... No, no, ma, diciamo, il meccanismo, scusate, scusate, il meccanismo è questo, che praticamente, diciamo, noi avremmo pagato un prezzo unitario superiore a quello che c'era stato detto. Certo. Loro avrebbero comprato quello che non sarebbe stato comprato a prezzi unitari molto più bassi. Sono dei nostri. Va bene. A questo punto ci fermiamo ancora, perché poi riprenderemo da questo punto, ricordiamo. Mi raccomando. La linea passa alla regia, perché c'è il GR che è pronto per... Ascoltiamo le notizie appunto dal mondo e poi la pubblicità, poi ritorniamo in studio, chiaramente. Bene, ritorniamo ancora, perché qui si accende la cosa dietro le quinte, praticamente. Eravamo arrivati, allora, alla subvisione di questi 92 giorni. Era l'assemblea del giugno che ha bocciato l'accordo e quindi decadde il... Il mandato che aveva dato i sindacati. No, il consiglio direttivo dell'associazione Tindoretto 88. Perciò a questo punto, teoricamente, i sindacati vengono... Vengono rovuti, perché il loro mandato era inerente solo e esclusivamente alla... Alla prezzativa, per farlo abbassare il prezzo. Cioè, erano arrivati alla testa di 92 milioni, siccome non c'è stato bene, automaticamente dovrebbe essere... Perché dovrebbe essere pagato di più, poi, naturalmente. Perché alla fine, con il difetto della... Ma la Comit, tutto questo, che diceva? Che ricordiamo Comit, sempre Tindoretto, chiaramente. Poi devi dare Tindoretto. No, 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 ha fondato la Tindoretto. Perfetto, però ancora Comit, questo Conti. Conit, Conit. Sempre Conit a casa, è rimasta il disturbo per lei, perché dice come mai non avete accettato questa idea di 92 milioni. Noi abbiamo detto che non accettavano perché non erano poi all'ultimo 92 milioni, ma ne erano di più. Pertanto ha detto no. Però non ha detto sì, però è vero, sì, se ne sono di più. No, noi hanno detto, cioè, beh, forse vediamo, dobbiamo rifaricare, poi dobbiamo fare... Cioè, c'è stato una specie di... Hanno rifatto una specie di conti successivamente, hanno cercato di riparare... Però non è stato accolto da nessuno e quindi a quel punto lì era caduto tutto, sia mandato ai sindacati, sia mandato alla Tindoretto, sia a tutti. Però quello che voglio dire, voi siete riuniti, cioè, ovviamente, su 300 inquilini eravate circa 250-260. In tutto ciò, come potete fare per un accordo di questo tipo senza, in qualche modo, interpellare gli altri 40 inquilini? Proprio, che fine facevano in questa situazione? Gli altri inquilini erano 10 appartamenti, circa 10-12 erano sostitti. Gli altri erano, come si chiamano, se... Aspettavano. Negli grossi commerciali, altri non erano interessati, se non è che... Cioè, non volevano comprare, non erano interessati al problema. Sarebbero andati via proprio dall'ora. Via, oppure avrebbero... Si sarebbero regolati di conseguenza, non erano... Comunque, non si sono associati. Quindi, diciamo, siamo tornati al fatto che abbiamo caduto tutto, quindi è il 26-12 giugno. Perfetto, in tutto questo, io so che tra gli inquilini di questo comprensorio, ci sono dei nomi eccellenti, tra l'altro l'avete anticipato anche voi. Io so che c'è il signor Luciano Morgi, per esempio, tra gli inquilini. Baglio? Sì, sì, sì. Lo era già? C'era già, sì, sì, sì. Perfetto. Poi, tra l'altro, so che c'era anche l'attuale sottosedale della giustizia, onorevole Marcella Lucidi. Sì. Che, tra l'altro, ha preso anche un'interrogazione parlamentare all'epoca. Sì, ha preso anche un'interrogazione parlamentare. appunto, onorevole Lucidi, ma purtroppo in due giorni non abbiamo ottenuto questa disponibilità per poter intervenire, insomma, in qualche modo per dire la sua condizione appunto di inquilina come è stata, insomma, ecco, in questo senso qui. Però questi personaggi, diciamo, eccellenti, come definiti voi, hanno partecipato, facciano parte di questa associazione inquilini o no? Beh, diciamo che per quanto riguarda i moggi c'era il suo prestanome, praticamente. Che vuol dire il prestanome? Perché è una persona che lui ha incaricato, non prestanome, un, come si dice, un incaricato, un procuratore per... Un rappresentante, diciamo quello. Un rappresentante, no, prestanome, un rappresentante che agiva per il punto di moggi. Per quanto riguarda l'onorevole Lucidi partecipava tranquillamente a tutta la... Faccia parte dell'associazione, chiaramente, perfetto. Si, partecipava all'assemblea, alle riunioni, alle decisioni, eccetera, eccetera. Non ci duele questo fatto perché, avendo presentato un'intervenzione parlamentare, abbiamo cercato di... però non siamo riusciti a trovare la disponibilità per intervenire, insomma, ecco, per realizzare e poi consumare l'intervento proprio direttamente, insomma, ecco. Siamo sempre qui, per cui se vuole intervenire adesso, vuole intervenire. Ma proprio soltanto io ho avuto l'ultimo contatto con l'addetto stampa e niente, non era stato possibile trovare, insomma, la situazione adatta, appunto, conciliare con questo... la trasmissione, eventualmente, con l'attività lavorativa del sottosegretario, insomma, l'attività politica. Bene. Ritorniamo ancora, ecco, cerchiamo di... Abbiamo quindi cominciato a organizzarci, noi come associazione, e cercare, appunto, che o meno di poter riprendere in mano la situazione con la proprietà, che chiaramente tutti quanti noi volevamo comprare e come si paventava, anche la proprietà voleva vendere, anche se, contrariamente a tutte le idee possibili e immaginabili, sembrava che questa proprietà non volesse vendere tutto il complesso, ma lo volesse mettere a reddito. Chiaramente mettere a reddito un complesso del genere significa, aspettaci solo qualche soldo per le liberazioni, le situazioni, eccetera, eccetera, ciò che non venne mai, se non dei pagliativi. Comunque, andando avanti nella storia, avvenne che noi ci costruiamo... L'operabilità è sempre della Vissi, a questo punto, giustamente. Sempre della Vissi, noi come associazione, quindi qui di Toretto, cambiando vari consigli direttivi, cambiando personaggi, sempre dell'associazione...